Un programma social tv sul mondo della recitazione, del teatro e del cinema. E questo Io Recito, il nuovo format coprodotto dal gruppo MediaOne insieme alla Shakespeare Theatre Academy che andrà in onda sulla nostra rete da sabato alle 21.15. 30 studenti di recitazione della Shakespeare Academy divisi in tre compagnie si sfideranno in ogni puntata per vincere al termine del percorso di studio una formazione professionale, un viaggio per Los Angeles e un viaggio a Londra. L'idea di Io Recito nasce proprio dalla voglia di tornare dopo due anni complicati a causa della pandemia e cercare di rimettere in moto un po' la macchina culturale e anche, soprattutto, per dare ai ragazzi, ai nostri allievi, ai nostri studenti come dire, quella grinta, quella voglia di ritornare a stare insieme, quella voglia in qualche modo di ritornare a fare arte, a fare teatro non più dietro uno schermo, insomma, con la didattica online, ma proprio sul palco e cercare in qualche modo di ritornare ad essere un gran gruppo di persone che credono nei propri sogni, nei loro progetti ma soprattutto, insomma, nella forza comunicativa del teatro stesso. Il pubblico vedrà 30 studenti di recitazione che appunto faranno le lezioni, i laboratori, gli incontri con dei coach esterni oltre che con i nostri coach della Shakespeare Academy e poi avranno delle sfide, delle sfide performative, delle sfide didattiche, delle sfide divertenti si sfideranno tra di loro per cercare in qualche modo di acquisire quanti più maschere, cioè punti, possibile per poi arrivare alla parte finale del format che prevede comunque dei premi molto belli, molto interessanti. Barbara Livari conduce egregiamente il nostro format, sarà un po', come dire, la conduttrice ma soprattutto colei che accompagnerà proprio questi ragazzi fino al traguardo finale.